Gravillon, distorsione della caviglia, non è disponibile, Canutè ieri in allenamento anche lui ha fatto una distorsione, sicché oggi non si è allenato, vediamo se riusciamo a recuperare, Brugma è il primo allenamento a parte, oggi è il primo allenamento a parte che fa, perciò questa è la situazione, per quanto riguarda abbiamo recuperato Memushay e Creco che hanno avuto problemi, è difficile anche da spiegare queste cose qui, io nel mio piccolo cerco di isolarmi da tutto, cercare di pensare esclusivamente a quello che devo fare, cercare di mettere nel miglior modo le condizioni, i giocatori di giocarsi la partita, di curare i dettagli in tutto e per tutto e cercare di non spremere tante energie nervose su altre cose perché sarebbe un danno per me e per la squadra, perciò anche i calciatori dovrebbero fare questo, isolarsi da tutto, pensare esclusivamente al campo, concentrarsi su quello che si deve fare, perché le capacità ci sono, l'abbiamo dimostrato, dobbiamo solo tirarle fuori anche in un momento di difficoltà come questo, perché non bisogna nascondersi dietro un dito, ma io sono il primo, però dobbiamo essere luci, affrontare le squadre e cercare di farle nel nostro meglio per tirarsi fuori da una situazione che non è difficile perché siamo dentro i playoff, stiamo facendo il nostro percorso, però insomma dare l'anima per arrivare all'obiettivo, l'obiettivo sono i playoff, secondo me con 6 punti ci siamo, dobbiamo cercare tra questi 6 punti, punto. Ho comprato un'inferiata! Verri è un ottimo giocatore, come i due damanti sono molto bravi, secondo me, Sadiq hanno un bel potenziale, damanti, è una squadra che mi piace come gioca, faccio i complimenti anche l'allenatore, perché è una squadra molto propositiva. Però è che un giocatore come Verri si limita più di squadra? Verri è un giocatore che ti spacca in due anche certe situazioni.